E' tutto vero, un canale colorato di rosso nero dove è tutto vero Zero fake news, la voce sincera che c'è su Youtube Siamo una fonte verificata, è questa la vera ficata Qui parliamo solamente della prima squadra di Milano Iscriviti, iscrivici quello che pensi, mettiamo un cuore ai migliori commenti Buongiorno amici di Milanello, la consueta rubrica L'Avvocato del Diavolo Oggi parliamo della questione Elliot e di tutte le notizie che si stanno susseguendo Per la vicenda della proprietà del Milan in una prima parte del video Nella seconda parte invece vorrei parlarvi di qualche novità interessante Riguardo all'interesse potenziale di Arnaud per il Milan Come dicevamo, le notizie degli ultimi giorni sono state Ovviamente alcuni servizi usciti sulla Gazzetta e anche su altri quotidiani Su chi è il reale azionista del Milan e alcune nubi adombrate sul fatto che sia realmente Elliot o meno il proprietario del Milan C'è il servizio di Report di Ranucci che mette ulteriori ombre Una prima parte è già andata in Ondra, la seconda andrà in Ondra lunedì E poi c'è la smentita o meglio la comunicazione ansa di ieri di Elliot Che dice che è proprietario del 96% delle quote del Milan In tutto questo ovviamente sono susseguiti gli interventi di tanti Alcuni anche molto precedenti tra cui l'amico Ruiu Sui dubbi che l'accordata di controllo del Milan post operazione lì In qualche modo i dubbi sulla proprietà dell'accordata post acquisizione da lì Io volevo fare alcuni punti Anche noi come Milanello ci siamo già occupati della cosa con qualche servizio In particolare su Cidia del Milan Ci sono delle singolarità in questa vicenda Ma alla fine di tutto poi tanti dei dubbi secondo me sono chiariti In particolare abbiamo una catena di controllo Che come sapete fa riferimento a una società lussemburghese Che era quella che aveva il pegno dato a Elliot Ed è la Rossoneri Investment Che è partecipata oggi post esercizio del pegno Da parte di una società che è controllata da Davanzo e Cerchione Da Salvatore Cerchione e Gianluca Davanzo E da due società del Delaware Big George e Genio La nota di Elliot sta a dire che dietro quelle due società Ci sono due fondi di investimento del gruppo dei fondi gestiti da Elliot Quindi due fondi diciamo riconducibili a Elliot Le domande che in tanti si fanno Intanto era se era vero questa cosa Non abbiamo la possibilità di verificarla C'è la notizia AMSA La prendiamo per buona Quello che interessa al tifoso del Milan Che Elliot ha sempre Elliot e comunque la Rossoneri Investment Hanno sempre ripianato le perdite annuali Mettendo in una prima fase tantissimi soldi Nel patrimonio netto del Milan E anche nell'approvazione dei bilanci di quest'anno Hanno ripianato le perdite Per cui diciamo che il socio ha fatto il suo L'altra singolarità che avevamo evidenziato anche noi Era il fatto che nel CDA del Milan c'erano tutti i soggetti Diciamo non direttamente riconducibili al fondo Elliot E in particolare avevamo evidenziato che forse la maggioranza Dei manager o degli amministratori che partecipavano al CDA del Milan Non era riconducibile direttamente a Elliot E questo era qualcosa di singolare Però le fonti di Milanello che non ha nessuno Tra l'altro che non ha neanche Report E neanche gli altri amici opinionisti Sono di parlare direttamente con i diretti interessati Di parlarci e non di leggere i comunicati stampa E possiamo dire che alla fine della nostra Diciamo mini due diligence Nel Milan ci partecipano tutte persone In maggioranza riconducibili al fondo Elliot Perché Diciamo questo Perché Salvatore Cerchione e Gianluca Davanzo Sono a quanto consta a Milanello Riconducibili a Elliot In quanto sono i manager che coinvestono con Elliot In tantissimi altri investimenti E sono soggetti di fiducia Come possono essere i partner di un SGR che fa investimento Loro coinvestono e hanno la fiducia completa di Elliot Quindi possono essere condotti nell'ambito del board del Milan Come soggetti in capo a Elliot A cui si aggiungono ovviamente gli altri E consentono di avere la maggioranza Rispetto a quelli nominati dai piccoli azionisti Che sono, mi sembra, se ricordo bene, due L'altra figura che era presente con lì Ed è ripresente nuovamente È Scaroni Che era consigliere con lì Ed è presidente del Milan Perché probabilmente è stato individuato come figura Di rilievo istituzionale Che andava bene anche per il nuovo socio Socio Elliot istituzionale Gazzidis è stato scelto da Elliot E dall'amministratore delegato Pur, diciamo, terzo al mondo Elliot Prima di questo investimento Ma comunque scelto E comunque sempre sostituibile Nel caso in cui i risultati non ci siano Per proseguire nell'analisi Se noi poi andiamo a vedere il collegio sindacale Che era un altro dubbio che avevamo avuto Perché era presente lo stesso collegio sindacale Papa e gli stessi sindaci con lì E ora sono presenti con Elliot Penso che gli venga riconosciuto Un ruolo anche qui istituzionale Che è stato quello di convocare l'assemblea Per consentire al socio Rossoneri Investment Di nominare il nuovo board Post esercizio del pegno Quindi, dalle analisi fatte da Milanello E dal sottoscritto in particolare Pur non avendo una trasparenza completa Perché ci fermiamo alle notizie che abbiamo Sulla del Delaware E al comunicato rilasciato a Lanza Io ritengo E penso che anche Il Milanello ritenga Che il controllo del Milan Sia del fondo Elliot Questo era per dare anche noi Il nostro contributo all'esame C'è una novità E questo lo diciamo dopo aver sentito Alcune persone Non sulla base solo documentale Tra l'altro Salvatore Cerchione E Gianluca D'Avanzo Vengono dipinti anche da Report Con il surf Che fanno surf Tatuate e quant'altro Parliamo di due grandi manager Ingegneri Gente preparatissima Che ha investito E fatto anche tanti soldi Con operazioni fortunate E vi dico una cosa Che si collega alla seconda parte del video Sono loro tra i primi preoccupati Che questo investimento Sia un buon investimento E quindi tra loro Tra i primi Che spingeranno E qui la notizia Per la vendita del Milan Se dovesse arrivare un acquirente Perché Elliot ha investito I famosi 300 Più i vari ripianamenti Siamo oltre 500 milioni Di investimento In carico ad Elliot E quindi si inizia ad arrivare A quella soglia Di non ritorno Se anche l'anno prossimo Dovesse ripianare le perrite Poi se Elliot vuole guadagnare qualcosa Deve vendere il Milan Quattro prima Ha un valore superiore A 600-700 milioni di euro E non tutti sono disponibili A queste cifre Se non persone O soggetti giuridici Che hanno un interesse Chi può avere un interesse Nel Milan Che è una società Che comunque di calcio Che potenzialmente Nei prossimi anni Continuerà a perdere Chi ha un interesse All'immagine Al marchio Milan Marchio Milan Nel mondo E questo Torniamo alla notizia Che possiamo avere E che nell'entura Sia del Milan Che del mondo Arnaud Possono Ci hanno riportato Un interesse Che potrebbe sfociare A primavera Non è un caso Anche le notizie di stampa Del Sole 24 ore Di settimana scorsa Che parlano Del rilancio Per il bel paese Della famiglia Arnaud Che controlla Ovviamente Tutta la parte Di Louis Vuitton E dei marchi Del lusso E ha rilanciato Dicendo che In Italia L'anno scorso Ha investito 200 milioni di euro Nella manifattura In Toscana Ecco Le notizie Che riferiamo È che ci potrebbe essere Questo interesse Un interesse Che nonostante Le 6-7 smentite Che ha dato Arnaud Nei mesi scorsi Potrebbero vedere Un Diciamo Un rafforzamento Un approfondimento Dell'operazione In primavera Che non vuol dire Che compra Arnaud Ma vuol dire Che potrebbe Decidere A seguito anche Di vedere Come va Questa pandemia Di mettere Il naso Nel Milan In maniera Più seria Nel guardare I numeri In maniera Più seria Nel valutare Seriamente L'investimento E dall'altra parte Trovare terreno fertile Nel fondo Elliot Che ovviamente Sta andando Al termine Il suo investimento Potrà tenere Ancora un anno Due anni Ma poi Necessariamente Dovrebbe cedere Queste sono le notizie Che ci risultano Sia lato proprietà Che lato Operazioni Sul Milan Io vi ricordo Di iscrivervi al canale Vi ricordo Di seguire Le nostre live Forza Milan Sempre Siamo rossoneri Siamo una famiglia Apri questo sito Che abbiamo bisogno Di una voce nuova Hello 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 Milano Rispondiamo a tutto A questo e quello Hello Hello Milano Hello Messe il rossone Quanto è bello Ciao